Oggi vorrei parlarvi di questo termine che sicuramente avrete già sentito, Kai Zen. Kai significa miglioramento, invece Zen significa buono, positivo. Questo è un termine che fu coniato nell'86 da Masaki Mai per in qualche modo creare una filosofia, spiegare con il pensiero quello che era stato il grande sviluppo, grande e continuo, dell'industria giapponese. Questo è un principio di cui tanti formatori hanno parlato, per esempio penso ad Anthony Robbins, quante volte è tornato a citare questo termine, quindi questo principio, parlando di crescita personale. Ne parlo anche nel mio libro, il writing way, perché credo che abbia un grande peso anche nel campo e nell'ambito della scrittura. Non si è mai arrivati quando si scrive, sia che noi si sia dei romanzieri, dei blogger, quando ci si dedica comunque alla scrittura. Non pensate mai di aver raggiunto il massimo, questo anche perché la scrittura si evolve e perché ognuno di noi può sempre fare un passo in più rispetto a dove è arrivato. Che cosa significa però per chi scrive attuare un miglioramento continuo? Non significa non essere mai soddisfatti, non significa aver completato un'opera magari e non decidersi a farla uscire o a proporla, ma significa sapere che la scrittura in quanto forma di comunicazione si evolve continuamente e quindi cambia. Noi dobbiamo aggiornarci, dobbiamo conoscere questi cambiamenti, dobbiamo avere sempre il polso della situazione, dobbiamo darci continuamente nuove organizzazioni del nostro tempo, quindi anche darci dei piani di scrittura, un tempo, un luogo, organizzarci. E poi dobbiamo soprattutto studiare molto, formarci e anche confrontarci. Non giudicate mai gli altri autori, nel senso certo sviluppiamo uno spirito critico, ma non mettetevi mai su un piedistallo, anche qualora voi avesse pubblicato con chissà qual editore, perché la scrittura, ripeto, si evolve. Quindi non esprimete giudizi, ma confrontatevi, cogliete qualcosa ovunque. Certo, guardate ai bravi, ma abbiate sempre grande anche rispetto per chi dà degli apporti nel campo della scrittura. Quindi miglioramento è questo, quindi uno studio costante della tecnica, della letteratura, ma anche riflettendo sul vostro compito di autori. Chi scrive propaga pensiero, propaga valori. Quindi avete un grande compito. Ecco, ci tenevo a condividere con voi questa riflessione, augurandovi una buona giornata. Grazie. Grazie.